Un ragazzo romano che vince un premio importante sulle passarelle di Alta Roma. Cosa significa per te aver vinto il tuo primo riconoscimento importante nella tua città? Significa molto perché Roma, soprattutto negli ultimi anni, è stata un po' trascurata nella moda. Quindi portare un po' il premio qui a Roma è una grossa soddisfazione. Anche perché poi sotto il mio logo Alessio Spinelli c'è scritto in piccolo Roma, quindi l'amore per la città è totale. Com'è nata la tua collezione di accessori che ha vinto oggi? Allora, è composta da la prima collezione di un anno fa, la nuova, l'attuale, più quattro pezzi della collezione 2012. Più un progetto speciale che è la collezione Neon, che è stata sviluppata due anni fa, era un brevetto depositato e in cui sono dei sandali con una struttura in legno percorsi da un particolare Neon. E di notte tramite delle batterie ricaricabili si illuminano e producono un effetto molto particolare. Cosa succederà da adesso in avanti? Cosa cambierà nella tua vita? Ma continuare a lavorare con la stessa passione di prima, forse anche di più. Sicuramente mi prenderò tutto quello che viene e già adesso, comunque è già morto. E cosa significa Made in Italy per te? Made in Italy significa progettare un prodotto dal disegno fino alla realizzazione finale totalmente in Italia, con materiali italiani, con opera italiani, con artigiani italiani.